Sì, per tutti i fan che ci guardano così in via pubblicità. Ciao! Stai facendo già? Facciamo un video a tutti i fan che ci guardano. Dove lo metti il suo video? Su Facebook. Su Facebook di Ben Macchie. Vete? Vai, vai. Facciamo un saluto a tutti i battiti di Ben Macchie. I battiti di Ben Macchie. I battiti di Ben Macchie. Sì. I battiti lo fanno con me. Non ci vuole. Tutte due. Ciao. Ciao dei battiti. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie.